Questa è la città turistica di Cosolini, qui passano 1.200.000 visitatori all'anno, guardate le corriere, guardate il degrado che versa Grignano, uno dei più bei posti di Trieste. La città turistica è fatta di decoro, è fatta di servizi ai turisti, questo dobbiamo fare se vogliamo creare nuovi posti di lavoro. Il 19 giugno, vota di piazza, mi occuperò personalmente di questo problema. Grazie.